o amico anche dal mare Dado non si ferma mai e tra un pisolino delle figlie e due castelli di sabbia saluta Asia Dado continua a lavorare per te e sta preparando dei bellissimi articoli per suonare la batteria.it il mio sito il primo articolo attenzione perché subito una bombetta cioè 10 accessori sotto i 10 euro che ogni batterista dovrebbe avere io li ho già testati tutti te li elencati ti lascio il link qui sotto nelle note su suonare la batteria punto it ora vado a bermi un bel mojito